Gemun 2020, un'edizione che si intitola Beyond Borders, oltre i confini molto importanti, i ragazzi simuleranno un incontro all'ONU, un evento organizzato da Fulgis. Da Fulgis ovviamente insieme con l'organizzazione mondiale del Gemun, aiutati come sempre molto generosamente dal Comune, che oggi è rappresentato in una maniera elevatissima e che ci consente di far vedere l'eccellenza delle nostre scuole e il continuo miglioramento che stiamo cercando di apportare per le scuole, per i ragazzi e per questa città, per la parte internazionale, per quello che è l'intero gruppo di scuole della Fulgis e anche per il Duchessa di Galliera che per esempio lancerà l'anno prossimo il nuovo corso di liceo per le scienze umane, comunicazione con attenzione per il giornalismo. Insomma, tanti impegni che questi ragazzi bellissimi e bravissimi testimoniano per noi meglio di quello che possiamo fare e dire no. La politica in mano ai giovani? La politica cerchiamo di tenerla più lontano possibile dal fare le cose, noi abbiamo un sindaco straordinario che effettivamente è meno politico e molto più bravo amministratore, noi cerchiamo di prendere esempio da lui per un verso, dai ragazzi con la loro freschezza, con la loro onestà, con la loro energia dall'altra e facciamo quello che possiamo da poveri vecchi.